Salve! Altro test sui composti chimici. La formula del soffitto ferrico è A. Fe, SO3, Fe2, SO4 preso due volte, Fe, SO4, Fe2, SO3 preso tre volte, oppure Fe, SO3 preso due volte. Il soffitto ferrico è un sale e se non riesco ad individuarla subito perché già conosce bene i composti chimici, allora devo provare a ricavarlo. E parto dal nome, soffitto ferrico. Allora, già in ferro c'è il soffisso ito, vuol dire che presenta un numero di ossiazione più elevato. Il ferro generalmente c'è un numero di ossiazione 2 e 3, allora in questo caso è il ferro a numero di ossiazione 3. Vediamo il soffitto. Questo sale deriva dall'ossiacido, quindi pensando al nome dell'ossiacido dovrebbe essere l'acido sofforoso perché passando dall'ossiacido che presenta un soffisso oso e quindi il numero di ossiazione più basso, oso nel sale passa dito. E allora, qual è l'acido sofforoso? Se non ricordo almeno la formula dell'acido sofforoso, lo posso ottenere dalla libride. La libride, SO, ricordo che lo zolfo presenta un numero di ossiazione, 4 e 6, per quanto forma gli acidi. Se è soffitto il sale, vuol dire che abbiamo già detto l'anidride è quella sofforosa. Dunque, il numero di ossiazione è 4. Ossigeno è meno 2, SO2 è l'anidride sofforoso. La faccio reggire con l'acqua per ottenere l'ossiacido e ottengo H2SO3. Questa è l'anidride, scusate, l'acido sofforoso. Naturalmente, dall'acido sofforoso aggiungo il metallo di ferro 3 in questo caso e ottengo il sale che poi vado a trovare lì. Questa è la struttura del sale. Naturalmente, SO3 lo riscrivo così com'è. Abbiamo detto 2 di ferro più 3. Tutto questo gruppo attribuisce un numero di ossiazione che è uguale al numero degli atomi di idrogeno dell'ossiacido. Calcolo rapido. Quindi meno 2. Bene fatto. 2 lo metto al ferro e 3 lo metto qui. Quindi la risposta giusta, il soffitto ferro, è F2SO3 preso 3 volte. Andiamo a vedere qual è. E' un'antidride. risposta esatta D. Prossima.